Salve a tutti ragazzi, quest'oggi non vi presenteremo un animale, ma bensì vi daremo una notizia e vi aggiorneremo sul canale. Allora, a breve il nostro canale cambierà il nome e il nome diventerà Erping Terralium TV, Erping scritto con l'H all'inizio e questo lo faremo solo quando questo video, cioè cambieremo nome solo quando il video che stiamo girando, raggiungerà le 20 visualizzazioni e molti sapranno questa notizia. Poi abbiamo pensato di fare questo piccolo sportello, se durante i nostri video vorrete un chiarimento, un approfondimento, non avete capito qualcosa, tutte le domande che volete fatele nei commenti. Se ci sono in tanti a fare la stessa domanda facciamo il video risposta. come questo in pratica. Abbiamo scelto di fare questa decisione perché il nome del canale, ovvero Bioterrarium Channel, era troppo simile a Terrarium Channel, che vi consigliavo di iscrivervi intanto. Abbiamo scelto di fare questa soluzione che ci sembra anche la migliore. Ci scusiamo per il plagio ma è stata una cosa involontaria, garantito. Poi vorremmo dirvi che la maggior parte dei video di Erping saranno fatti quest'estate perché ancora è gennaio, per cui non ci sta molto. Diciamo, quest'estate comunque faremo tante presentazioni molto belle e diciamo quelle più belle che faremo saranno l'entomologia in città e poi io penso di fare una bella presentazione sugli odonati perché mi sto specializzando molto su di essi. Per cui comunque quest'estate aspettatevi bei video e poi a Pasqua probabilmente andremo in Sardegna, l'unico che li aspettatevi qualche bel video. In città secondo me è un'ottima cosa per far avvicinare le persone all'entomologia perché ovviamente la gente vive in città. Noi gli faremo vedere le specie più belle che vivono sotto le loro case praticamente. Ed è una cosa che voi potete scendere da casa vostra e farla quando e come volete. Ok, allora vi invitiamo tutti a diventare naturalisti, se avete la nostra età ragazzi naturalisti, poi faremo un video che parla un po' di quello che fanno i naturalisti e i loro attrezzi. Allora, buona visione. E iscrivetevi. Una cosa che mi sono dimenticato, penso il canale migliorerà la qualità dei video perché abbiamo scaricato un programma migliore e forse riusciremo anche a mettere un sottofondo audio. Per cui aspettatevi belle cose, allora al prossimo video, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace e soprattutto ricordatevi questo sportellino delle domande. E allora ciao e al prossimo video.